Adesso che sono adottore inizierò ad allenarmi seriamente e quindi il Sager Klaus mi vedrà solo da lontano Guardate la stuzia, guardate la bravura di tanti anni di allevamento, guardate la fustura, guardate la fustura, la divisa in composite è bianca, guardate la bravura, sopra, sopra, guardate il camp è attrezzato, guardate il camp è attrezzato, guardate il camp è attrezzato Adesso l'entrazione Vai 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 Insomma lei è dottore, adesso conosce benissimo il dottore, diciamo che se si fosse laureato l'anno scorso gli mondiali in Finlandia sarebbero forse andati in meglio Eh si è stato un peccato però dai guarderò di sfruttare Dai che la granada becca e fa mountain bike